Salve amici appassionati Football Manager, qui con voi come se piace Mike 94, ovviamente Football Manager Italia Siamo qui di uno su Football Manager 2016 con il nostro mitico Wigan e oggi andremo a vedere le partite con l'Holdham e il Brentford Due partite non proprio facilissime, speriamo di riprenderci dopo la pareggite dello scorso episodio Soprattutto con l'Holdham, una partita molto molto importante dove dovremo assolutamente cercare i tre punti per non far prendere terreno al Southend E poi vabbè la partita con l'Fi Cup è un po' meno importante, visto che comunque già abbiamo fatto dei miracoli E arrivare in questa diciamo parte di Coppa è veramente già stato un miracolo Il Brentford comunque è di una serie superiore alla nostra quindi non sarà affatto facile La Formations già l'ho fatta, volevo dirvi che per fortuna Martella sta meglio Non ha più cali né fisici né mentali né tecnici quindi tanto tanto di cappello E oggi giocheremo con O'Donnell, Baccayogo, Pierce, Gerrard, Martella, Torres, Murray, Da Silva, Odelusi, Goro e Davis Speriamo bene, speriamo di fare una buona partita, speriamo di vincerla, questo è poco ma sicuro Ho già letto che siamo i favoriti, ci portiamo McAllen in panca e speriamo ragazzi Veramente è una partita importantissima, ripeto molto di più rispetto a quella del Fi Cup E assolutamente veramente ragazzi dobbiamo finire con questo trend di pareggi e brutte prestazioni Speriamo di darci una svegliata proprio oggi con l'Oldham Che fino a poco fa era secondo in classifica poi ha perso terreno dopo anche loro una serie di brutte prestazioni Marco da Silva cross al centro, c'è ancora Goro però che la ripassa al centro dove c'è Davis subito 1-0 per il Wigan, 23esima rete stagionale del mitico attaccante Veramente una belva ragazzi, veramente una belva Ottimo il cross di Goro e al terzo minuto già la sblocchiamo Il problema adesso è difenderci Abbiamo i due difensori titolari, non c'è Morgan ma c'è Pierce che credo sia il nostro miglior difensore Speriamo bene ragazzi, mai dire mai però spero in una buona prestazione C'è Goro che la passa al centro, c'è Sean Murray, Sean Murray ancora per Goro Goro al limite, lo delusi, che sfiga Che sfiga veramente 1-0, speriamo di continuare così ecco appunto Kelly, Kelly la passa a Croft Bravo delusi, però c'è ancora Loldam che attacca Ecclesi, bravo Goro Che la spalla in avanti per Davis Davis poi Oh, errore di Wadman, dai Davis 2-0 Erroraccio del portiere del Loldam 24esima rete stagionale Per il mitico Davis ho temuto in uno sbaglio clamoroso Veramente qua sbaglia Non so mai cos'è la presa con le mani fuori aria Ottimo poi Subito Davis pronto a insaccarla di nuovo Meno male ragazzi Stiamo ritornando il bel Wigan di tante partite Che però ogni tanto si spegne E sinceramente non capisco il perché Però mi può far solamente che piacere Risvegliarci Dopo due brutti brutti pareggi Ovviamente Possiamo solamente essere felici E glielo diciamo alla squadra Dai ragazzi Speriamo in un secondo tempo Buono quanto il primo Speriamo che Loldam non si svegli Goro Goro crossa al centro Stiamoci attenti al contropiede Ancora lui Goro Crossa al centro Delusi E dagli ragazzi 3 a 0 3 a 0 Con Loldam Forse veramente le partite toste ci piacciono di più Veramente Così Stranissimo ragazzi Che col Sheffield United Pareggiamo Col Portvale Pareggiamo 0 a 0 E poi invece con Loldam Gli Facciamo 3 pere Un buono così 3 assist di Goro Mamma mia che giocatore Veramente Un grandissimo Poi ho Delusi Veramente non si smentisce Entrambi Davis No Davis ha segnato Ma Delusi E da un po' che non Inzaccava E per fortuna adesso Arriva Un bel 3 a 0 C'è un paio di sostituzioni Marco da Silva Per Schiavon Ehm Aspetta Se mai E poi vabbè Schommurrai Per Le Somie Facciamo un change Ok Ho fatto il change No Ok Schiavon C'è troppo Pista centrale E Le Somie Regista Ancora Delusi Non siamo stanchi Ancora Le Somie Appena entrato in campo Le Somie E bello il tiro Però ripeto Sta facendo discrete prestazioni Mi fa piacere Averlo rimesso in rosa Ma ripeto Non gli rinnoverò il contratto Anche perché comunque È abbastanza alto Sono quasi 300.000 euro Per un giocatore Che comunque È già Ehm Diciamo Per il ritiro Insomma Già molte caratteristiche Gli sono Abbassate parecchio Speriamo più che altro Di continuare A giocare bene Che continua a giocare bene Quest'anno E arriva però Il gol dell'olda Ma all'ottantaduesimo Potevamo evitarlo Però L'importante Adesso È non Deconcentrarci E di Non Buttare una partita Negli ultimi 8 minuti Facciamo 10 Con Il recupero Dai raga No Cazzo 3 minuti 3 minuti Bravo Goro Meno male raga Ho temuto il peggio Davis Davis Chiudiamola La chiude Con un'ottima tripletta Si porterà Il pallone A casa Bello il gol Bravissimo È stato bravissimo Qui nell'azione C'erano due difensori Ma lui con la velocità E con la forza Se li fa Tutti e due E poi Un destro Veramente micidiale 4 a 1 Ottima partita Per il nostro Davis Ottima partita Per il nostro Wigan Chissà In FI Cup Cosa faremo A questo punto C'è Bacayogo Ho delusi Ho delusi Per le somie Le somie Le somie Tiene pata C'è Davis C'è Davis Madonna santa Ma che cos'ha Che cos'ha oggi 26esima Rete Stagionale Quarto gol In partita Porca miseria Ragazzi Questo è un mostro Ce lo teniamo ovviamente Anche stretto Stretto per l'anno prossimo Che secondo me Anche L'anno prossimo Potrà fare stragi E Veramente ottimo Veramente ottimo 5 a 1 L'oldam Veramente in un periodo Bruttissimo E L'abito Potrebbe anche fischiare Infatti è così 5 a 1 Porca miseria Ragazzi Che partita E Eccezionali tutti Eccezionali Veramente Stiamo addirittura Più 10 al Southend Che ha perso Quindi per fortuna Stiamo prendendo Un po' di terreno Detto questo Io come sempre Vado a fare la Formations La conferenza stampa E ci vediamo Fra pochissimo Formazione fatta Più che altro Squadra che vince Non si cambia La stessa identica Della scorsa Speriamo bene Non ripeto Non ho voluto cambiare Perché abbiamo giocato Così bene Da Da lasciare sempre Gli stessi Vediamo un po' Come si comportano I nostri Beniamini Contro il Bramford Ripeto Non sarà facile Ovviamente Già noto che sono loro I favoriti Ma è normale Sono nettamente Favoriti Però Mai dire mai Insomma Abbiamo fatto sempre Tante belle partite E possiamo dimostrare Di essere un'ottima squadra Ripeto Non è il nostro obiettivo L'FK Perché è praticamente impossibile Perché dopo il Bramford Non so Che minchia di squadra Ci potrà capitare Tipo il Chelsea Magistere United Però L'Arsenal Quindi Ripeto Come andrà andrà Va benissimo Importante aver vinto Così Con l'Holdham Un bel 5 a 1 Che ci porta più 10 E qua subito O'Donnell Raga O'Donnell È poco un mostro Cioè Non c'è niente da dire Su di lui Poco forte 0 a 0 Ancora Già sarebbe Tanta tanta roba O'Donnell La spara in avanti Dove c'è Davis Che Nella scorsa partita È stato veramente Assatanato Con un bel 4 4 gol Con bei 4 gol Woods Goja Teibar Attacca Bramford Ovviamente Woods Ancora loro Palla al piede Teibar Ancora Woods Goal E vabbè C'è poco da fare Ragazzi Ripeto Sono di una serie Superiore So che fra un anno Li dovremo sfidare Però Fra un anno Sicuramente Saremo più forti Sicuramente Compreremo Giocatori All'altezza Della Della serie E proveremo Non dico subito La promozione Ma comunque Proveremo a giocare bene Fin da subito Torres Bravo Così Tiene palla C'è Martella Martella Per O'Donnell O'Donnell Spari in avanti Dove sta Davis Ma tutto da solo Non può nulla Ancora Murray Bello il pallone Però Delusi C'è il centro Davis O'Delusi Ancora O'Delusi Per Marco Marco Dall'altra parte Per Goro 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 Ancora lui Tiro Parata Di batto Un calcio D'angolo C'è Goro Dalla bandierina La cross Al centro Non ci arriva nessuno Peccato Davis Davis La passa Goro Ancora lui Palla al piede Goro Goro Marco da Silva Ancora Goro Non c'è nessuno Ancora il Bramford Che attacca Ovviamente Il Juge Bravo Sean Murray Bravo ad anticipare Qui c'è Goro Calma ragazzi Davis Davis Ancora lui Brutto il tiro Però qui Poteva fare Sicuramente meglio Anche se già Ha fatto una buona azione Non si può dire Veramente niente Ancora Bacayo Go Stiamo giocando Comunque bene Odelusi Marco da Silva Torres Odelusi Odelusi Per Bacayo Go Bacayo Go La passa Sean Murray Porca miseria Bravo Sto button Ancora Marco da Silva Da Silva per Bacayo Go Bacayo Go Al centro Per Goro C'è ancora Odelusi Mamma mia Ragazzi Che squadra 27esima rete Per Davis Ragazzi E' un mostro E' un mostro Ce lo venderemo Solo per 20 milioni Nel caso Di qualche offerta Che mostro Ragazzi Sto Davis Bellissimo Bellissimo Uno pari Col Brentford Risultato veramente Inesperato Ottimo Ottimo Così Possiamo solamente Dire Che stiamo Facendo bene Anche se Il secondo Non è molto D'accordo Ma Pareggiare Con il Brentford Già sarebbe Tanta roba Ovvio Poi arriveremo I supplementari Rigori Eccetera Però Già comunque È stato un ottimo Primo tempo Gorò La passa a Marco Marco per Gorò Ancora lui La passa D'altra parte Però Odelusi Odelusi Se c'entrava Sean Murray Ancora Palla al piede Sean Murray Tiene Tiene palla La passa a Torres Torres per Marco Da Silva Marco Da Silva Per Martella Martella Tiene palla Ancora lui D'altra parte Per Sean Murray Bello il pallone Per Gorò Taglie Gorò Taglie Gorò Madonna mia Madonna mia Ragazzi Pure Gorò In stato di grazia Veramente Tutti e tre Gli attaccanti Mi spiace per Jacobs Ma Odelusi Gorò E Davis Stanno facendo Sfaceli Stanno facendo Sfaceli 2 a 1 Ottimo Ottimo Forse Non dico Che la squadra Già è pronta Per la championship Ma Siamo sulla buona via Peccato che l'anno prossimo Non ci sarà Sean Murray Ma ovviamente Troveremo un attaccante Alla sua altezza Un attaccante Un centrocampista Alla sua altezza Siamo Quasi al sessantesimo Mancano ancora 30 minuti C'è ancora Diciamo Una partita Davanti Infatti attacca Il Bramford Ancora loro Tebar Tebar la passa Judge Goja Torres McCaren Tarkovsky Ancora loro Che attaccano Con Jota Wiebe Wiebe Qua Qua sbaglia Anche un po' Do Donnell Devo essere sincero Però vabbè ragazzi Può dire niente Un cazzo di portierone Peccato Settantaduesimo Ancora Donnell Paratona Dai ragazzi Vi prego Attacchiamo noi C'è Gorou Gorou Cross al centro Non ci arriva nessuno Ecco il contropiede Del Bramford Goja Goja Contropiede Contropiede Goja Goja Wiebe Bravissimo Donnell Mamma mia Portiere Io non faccio ancora Cambi nel caso Di tempi supplementari Bidwell Bidwell Bravissimo Ancora delusi Anche se sono tutti Parecchio stanchi Bidwell Mi sa che era Ulteriore parata Di O'Donnell Ottantacinquesimo Ottantaseiesimo Il tempo scorre Ottantanovesimo Mancano due minuti Recupero Poi sarà Credo tempi supplementari Non credo Già subito Rigori Vedremo Insomma Fischia L'albitro E vediamo un po' Che cosa succede Ah no Forse ci sarà La ripartita Non lo so ragazzi Se Si Si rifarà Beh vabbè In casa nostra Quindi Un vantaggio in più E' stata comunque Una partita fantastica Ragazzi Detto questo Spero che il video Vi sia piaciuto Spero che le partite Vi siano piaciute E come sempre Ragazzi Un saluto Da Mike94 Ovviamente Football Manager Italia Come sempre Mettete mi piace Commentate E condividete Ciao ragazzi